Emozione pura, i colori caldi del tramonto sui tetti delle abitazioni, il pianoforte bianco in primo piano e le note del brano nuvole bianche che si intrecciano al silenzio assordante di una città, Piacenza, travolta dall'epidemia da coronavirus. La ventunenne Cecilia Stella, studentessa dell'Università Cattolica, ha regalato ai suoi seguaci su Instagram una splendida interpretazione del celebre brano di Ludovico Inaudi. Ho suonato Nuvole Bianche di Inaudi perché personalmente è un brano che mi trasmette serenità e leggerezza. Ho voluto farlo nell'intento di mandare un po' di conforto sia a chi mi stava ascoltando in quel momento e sia a chi poi avrebbe rivisto il video. Ho ricevuto davvero tantissimi messaggi di persone che mi hanno ringraziato e lo hanno preso come un dono. Lo voglio dedicare quindi a Piacenza, la mia città, e a tutte le famiglie coinvolte nella lotta contro il Covid. Grazie. 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 Grazie.